lunedì dell'angelo con un concerto di brani del repertorio sacro nella cappella della madonna del conforto ad Arezzo. Il Serra Club, un movimento internazionale legale al servizio della Chiesa Cattolica in occasione dei 25 anni della fondazione ha infatti deciso di festeggiare con la musica con un concerto di due interpreti internazionali, il soprano Francesca Martini accompagnata al violino di Alexis Rousseau. Devo dire che in particolare la cappella della madonna del conforto dove ho proprio cantato la mia prima aria ed era un matrimonio quando ancora ero studente quindi c'è un legame particolarmente forte e soprattutto il programma che presenteremo dà molto spazio alla parte dedicata alla madonna. Ha deciso di presentarci la sarabanda ed altri brani dalla seconda suonata di Bach ed è molto contento di poter riproporre oggi i suoni particolari e le melodie che questo grande autore porta con sé. Nel corso della serata sono state infine raccolte offerte da devolvere al progetto del Club Serra destinato alla rinascita di Aleppo.